Di nuovo buongiorno da Omnibus, oggi possiamo dire che tra poche ore parte ufficialmente dopo la fiducia della Camera che sarà votata intorno alle 3 il governo Monti, ieri l'esordio in Parlamento, il programma non dettagliato ma comunque i punti principali li abbiamo sentiti, abbiamo letto anche prima sui titoli dei giornali, interventi ci saranno sulle pensioni, sul lavoro, soprattutto sulle proprietà immobili, con molta probabilità tornerà lì, ci sarà una tassa, non è stata chiamata patrimoniale, ma sulle ricchezze e sulle proprietà, questo ha fatto capire Monti, è un discorso che è stato molto apprezzato anche perché ha voluto precisare i confini della sua supplenza nel rispetto della politica che comunque mantiene il suo primato e i tecnici non è che sono superiori in quanto tecnici, ma insomma il compito l'ha detto anche scherzando, alla fine forse se sono qui è perché probabilmente il compito che ci aspetta è piuttosto complicato e la fase è piuttosto difficile, comunque oggi ci sarà il bar ufficiale, sarà molto atteso l'intervento di Silvio Berlusconi che tornerà da semplice parlamentare a intervenire a Montecitorio, interverrà nel dibattito sulla fiducia, interverranno anche gli altri leader, sicuramente Bersani, ma quasi certamente anche Casini, Di Pietro, insomma ci sarà il grande esordio nell'aula di Montecitorio e dunque vedremo come andrà e vedremo soprattutto poi come si avvieranno concretamente i singoli provvedimenti e come soprattutto le forze politiche poi continueranno nel sostegno che appunto ieri è stato larghissimo, solo la Lega è dichiaratamente all'opposizione, però poi ci sono quelle riserve dette da Berlusconi più ai suoi che ufficialmente, perché magari nell'intervento che farà oggi ci sarà un sostegno pieno al nuovo governo, ma sappiamo che invece nelle assemblee con i senatori e con i deputati Berlusconi ha mantenuto un profilo molto più dubbioso, staccheremo la spina quando vorremo, il governo Monti sta in piedi finché lo vogliamo noi, insomma si legge di un Berlusconi già in campagna elettorale che pensa a staccare la spina al governo nel giro di pochi mesi per andare a votare a giugno, ma questo è un altro film poi vedremo la realtà come sarà. Intanto saluto gli ospiti di questa mattina, la Iena in arte Riccardo Barenghi della Stampa, stiamo aspettando Gaetano Quagliariello del vice capogruppo del PDL al Senato, siccome al Senato ieri si è votato fino a tardi, quindi diciamo fino alle nove, sono stati impegnati, quindi gli concediamo qualche minuto di attesa, saluto Giuseppe Fioroni del Partito Democratico, invece oggi impegnato alla Camera appunto nel voto di fiducia, Lina Palmerini nel sole 24 ore, collegato con noi da Milano c'è Marco Cobianchi di Panorama, autore di un come dire, di un ritrattino niente male, non certo benevolo nei confronti di Mario Monti nel numero di questa settimana di Panorama, autore tra l'altro di Mani Bucate che è un libro sugli aiuti pubblici alle imprese private, insomma della serie I soldi pubblici che finiscono in tanti rivoli, anche quello è un capitolo sprechi che forse Monti dovrà affrontare, non se sarà in grado di farlo visto che gli aiuti pubblici sono di, immagino che siano descritti innumerevoli tipi di aiuti pubblici nel tuo libro. Sono qualche cosa di impressionante, la cosa che mi ha colpito quando ho iniziato a scrivere questo libro è che noi sappiamo perfettamente quant'è la spesa pubblica per le pensioni, per la sanità, per la scuola, ma è praticamente impossibile, nessuno aveva mai provato a monitorare la spesa pubblica a favore delle imprese private, ed è oltre a essere un fiume di denaro, io lo stimo in circa 30 miliardi all'anno, ma è soprattutto irritante il fatto che gli imprenditori dopo aver incassato soldi pubblici in mille modi diversi, quindi andiamo dal fondo perduto all'esenzione fiscale e via dicendo, che poi facciano la morale liberale a tutto il resto del paese, questo è qualche cosa di davvero irritante. E quindi Monti potrebbe intervenire su questo, tu dici 30 miliardi all'anno sono una buona finanziaria diciamo, anzi una robusta finanziaria. Credo che, naturalmente ne parleremo nel corso della mattinata, ma credo che la nomina di Fabrizio Barca, sulla quale io anche nel libro pongo qualche interrogativo, qualche dubbio, qualche perplessità, però credo che Fabrizio Barca sia la persona giusta, paradossalmente, perché sa perfettamente che i sussidi pubblici alle imprese private non servono assolutamente a nulla, non creano ricchezza, non creano occupazione, non creano sviluppo, lui lo sa benissimo perché è l'inventore della NPR, che è la nuova politica regionale, che è un insieme di meccanismi che servono per dare soldi alle imprese nel mezzogiorno. La Banca d'Italia, la Corte dei Conti, il Ministero del Tesoro e varie entità indipendenti, università, centri studi, io ci ho messo due anni a leggere tutto questo materiale, non ho trovato un solo rapporto indipendente che dicesse che i sussidi alle imprese private servono. Lo stesso Barca ha detto nel 2009 nei saloni della Banca d'Italia, ha detto che gli imprenditori chiedono continuamente soldi e che modificare la struttura industriale del mezzogiorno attraverso i sussidi ha portato a dei disastri, dei veri e propri disastri. E quindi potrebbe essere una delle linee di intervento del prossimo governo, ammesso che insomma duri il tempo necessario, allora saluto Gaetano Guagliariello che alla fine ci ha raggiunto. Mi avevano portato per sbaglio a Sazzarubra. Ah, perfetto, l'hanno capito tutto. Perché sta troppo in televisione, senatore, quindi non sanno mai dove andare. La concorrenza che ha cercato di deviare, mi fa specie vedere oggi praticamente quelli che sono due esponenti della nuova maggioranza, dei principali partiti della nuova maggioranza che da ieri ufficialmente PD e PDL sono maggioranza di governo, è esatto dire così? C'è di peggio che vedere me e Fioroni, la distanza non è mai stata abissale, poteva avere anche degli esempi più eclatanti. Quindi non vi sentite parte della stessa maggioranza, non è troppo presto. Ci sentiamo parte, presumo, della condivisione di riuscire a salvare l'Italia o di concorrere a salvarla, che già sarebbe un obiettivo fondamentale per la politica di contribuire a farlo. Se posso intervenire su questo, Giacomo, questa nuova maggioranza che si materializza qui, in particolare Fioroni e Quagliarello e quello che rappresentano Fioroni e Quagliarello nei rispettivi partiti, rischia o comunque potrebbe essere una nuova coalizione in futuro, alla fine del governo Monti, tutto un film da vedere come hai detto tu, ma insomma potrebbe esserci una bella scomposizione del PD con la parte Fioroni, la parte più moderata, la parte più cattolica e una bella scomposizione del PDL con la parte più moderata, quelli meno statanati, quindi Quagliarello, insieme al centro di Casini, Rutelli, Fini, con un nuovo leader che potrebbe essere Corrado Passera e alle prossime elezioni si va con un PD ridotto a una cosa un po' così. E quindi questo è uno degli scenari che si fanno in questi giorni, in questi giorni magari che vuol dire fantapolitica, ma chissà. Lo vedo un po' perplesso Quagliarello, non è molto convinto di questa tua previsione. Quagliarello si prende la responsabilità dello scatto in su dello spread che ha provocato con queste dichiarazioni. Io invece credo tutt'altro, io credo che anche nel dibattito di ieri, innanzitutto il grande protagonista, la grande protagonista della giornata di ieri è stata la crisi, se non partiamo da questo in realtà non comprendiamo nulla di cosa è accaduto. Di fronte a questa crisi che è assai più di un rimbalzo, per questo devo dire sono cadute in ridicolo le dichiarazioni, tra l'altro alcune fatte qui, di quanti dicevano lo spread scenderà 50 punti al giorno appena Berlusconi si dimetterà, lo spread scenderà, si è arrivati fino a 300 punti in una giornata. Di fronte a questa crisi io credo che noi dovremmo fare tre cose differenti per il Paese. La prima è quello di condividere misure molto dure in campo economico, non solo gli impegni presi con l'Europa, ma sia noi che l'altra parte devono avere un margine di disponibilità sui propri principi, perché se no non si fa politica, si fa ideologia e questa crisi necessita di misure durissime come quelle tra l'altro presse dal passato governo, poi magari ne parliamo. La seconda, invece ci sono tutta una serie di temi identitari barenghi che non possono essere per serietà abbandonati e non possono risolversi in un accordo o in una scomposizione. Questi temi devono essere portati in Parlamento e su questi ci deve essere un dibattito, se è possibile anche un conflitto un po' differente da quello del passato, invece di considerarsi nemici bisogna considerarsi avversari, anche perché si ha una solidarietà comune per quel che riguarda l'amor di patria, usiamo una parola un po' alta. E infine la terza cosa, abbiamo un anno e mezzo per poter fare delle riforme che fanno evolvere il bipolarismo, però su questo io voglio essere chiaro. Un anno e mezzo, quindi lei non vede una scadenza. Abbiamo al massimo un anno e mezzo, poi magari ci veniamo. Abbiamo comunque al massimo un anno e mezzo per fare questo. Noi abbiamo un bipolarismo che è certamente stato imperfetto, ma è stata una delle grandi modernizzazioni che questo Paese ha avuto. Su questo non c'è da tornare indietro, c'è magari appunto da andare avanti, da superare quelle aporie, quei ritardi che comunque l'esperienza ci ha dimostrato. E abbiamo secondo me davanti tre appuntamenti, regolamenti parlamentari, legge elettorale e riforma dello Stato. Credo che questi sono tre ambiti molto differenti. Cioè diciamo che il governo governa e fa delle cose che ovviamente poi il Parlamento dovrà approvare, ma nel frattempo il Parlamento si può occupare di queste cose, di queste riforme, anche perché nel governo non c'è un ministero delle riforme, quindi è come se fosse una materia lasciata completamente al Parlamento in cui il governo non è. Il senatore Quagliarello ha detto scusami una cosa molto impegnativa, cioè ha detto che questo scorcio di legislatura che dovrà durare un anno e mezzo dovrà occuparsi non solo di risanare l'economia, ma di fare delle riforme istituzionali importanti. Che tra l'altro erano già messe... Ma diciamo rispetto a quello che ha detto l'onorevole Berlusconi ieri c'è una differenza che io noto immediatamente, perché lì si parla di pochi mesi, stacchiamo la spina a quanto ci pare, mi pare che invece il senatore Quagliarello investa molto sulla... Lui ha detto fino a un anno e mezzo, ha detto... Sì, vabbè, però poi il discorso che ha fatto e le riforme che ha detto... No, no, ma io sono d'accordo. Sì, ma io dico questo, poi su questa cosa, no, su questo ne abbiamo parlato. Io questo governo lo chiamerei un governo di missione, perché appunto ha la missione di salvare il Paese, in una situazione, poi magari ci torniamo, perché questa cosa mi piacerebbe discutere con te, in una situazione in cui la democrazia è certamente, tra virgolette, sospesa, lo dico senza drammatizzazioni, con un senso di realtà, perché se vogliamo dire le cose come sono, ci sono arrivati segnali chiari dai mercati che una maggioranza troppo esigua, quella che avevamo noi, non andava bene e che nemmeno la maggioranza che presumibilmente poteva uscire fuori da elezioni anticipate, cioè una maggioranza di sinistra, avrebbe tranquillizzato i mercati. Questa è la ragione di fondo per cui entrambi abbiamo fatto una... Quindi quello è il senso della democrazia sospesa. E voglio dire, dico quest'ultima cosa, è evidente che speriamo tutti, io credo, Monti per primo, che la missione sia eseguita nel più breve tempo possibile. E' altrettanto evidente che per portare avanti una missione di questo tipo non c'è la possibilità di avere un limite. Questo è il senso. Mi pare chiaro. Fioroni. Io credo che l'intervento programmatico ieri del Presidente Monti a me ha convinto, ma ha convinto per due ordini motivi diversi. Il primo, credo che tutti noi, sceveri da contrapposizioni di parte, abbiamo trovato dentro quell'intervento le cose che sapevamo che andavano fatte e che andavano fatte con un senso di responsabilità e di condivisione che non si è raggiunto e non si è raggiunto, non è qui il caso di fare chi ha più colpa o meno colpa, però di fatto non si è raggiunto perché quelle cose non si sono mai volute fare e mai mettere nell'agenda. Io condivido una cosa che ha detto Monti, che Pagliarella ha sottolineato il lacrime e sangue. Io in quell'intervento, più che lacrime e sangue, che sembra tanto di coniugare la missione di salvare l'Italia con le sventure a cui sono chiamate altre, io ci colgo dentro una cosa di quel messaggio importante, che da un lato ha sottolineato i sacrifici e le scelte anche difficili che vanno fatte, ma dall'altra parte le ha collegate a una speranza e ha chiamato il Paese a una condivisione che riguarda direttamente il futuro e che mentre le realizza ci mette dentro anche quel tanto di equità e di ripresa della crescita che rendono un messaggio dal punto di vista governativo completo. Parlare solo di lacrime e sangue, se non ci si mette dietro anche la prospettiva della finalizzazione del sacrificio, non mi sembrerebbe sufficiente. Per quanto riguarda le riforme, io credo che le tre cose che ha elencato Quagliariello sono ampiamente condivise, credo che dovremmo fare anche uno sforzo in più che riguarda il welfare, che riguarda sullo Stato non solo Camera e Senato, ma riguarda anche il nostro sistema istituzionale e anche la ipertrofia del nostro Stato a livello centrale, regionale, periferico e credo anche che si debba trovare il modo e la forma, al di là dell'enunciazione soltanto del bipolarismo, di evitare che la democrazia sia sospesa perché la distanza che c'è tra l'elettore e l'eletto è una distanza abissale. Quello è il motivo che ha sospeso da anni nel nostro Paese la democrazia, cioè ritornare con una legge elettorale a ricollegare l'elettore con l'eletto, la scelta con la capacità e mettere in secondo piano il principio della fedeltà. Se si chiude una pagina politica, si chiude una pagina politica del liderismo che assorbe in sé anche il deficit di valori e di progetti. Per tornare a un leader che incarna una stagione ma la partecipazione della democrazia non è più affidata alla comunicazione e questo ha colpito tutti, Berlusconi la può aver inventato, ma poi ha colpito tutti, ma è affidata tutti si sono adeguati anche alla legge elettorale. Io volevo chiedere a Lina Palmerini, ma alla fine è proprio vero che c'erano tutte queste lacrime sangue nel discorso, almeno nel discorso di Monti era un po' più soft questo aspetto. Sì, lui ha tenuto a dire questo, che saranno sì sacrifici ma non macelleria sociale. Io però vorrei tornare a quello che ha detto Riccardo Berenghi, perché io sono molto d'accordo con lui, nel senso che la scomposizione dei poli di cui parla già un po' si vede. La Lega è all'opposizione e non è più con il PDL, quindi è un centrodestra già diverso quello che sostiene il governo Monti. E poi anche a sinistra vedo molte perplessità di Di Pietro e vedo già una prima delusione di Michi Vendola. Non a caso ieri Vendola ha detto la speranza del patto di vasto deve rimanere, proprio perché si capisce sia a destra che a sinistra che quello può essere il vero approdo politico del governo Monti. Ritengo inoltre che proprio le parole di ieri di Berlusconi, molto forti sulla maggioranza, insomma questo governo dura finché lo diciamo noi, il fatto di preparare una manifestazione a dicembre, il fatto di parlare dei congressi eccetera, sia proprio un modo per tenere compatto un PDL che senza Lega sicuramente immagina un percorso per il centrodestra molto diverso verso un partito popolare europeo, vicino anche alle ragioni dei cattolici di centro. Poi se c'è una cosa che accomuna Quagliariello e Fioroni in questo governo è sicuramente una forte impronta cattolica, tutti abbiamo notato come questo governo sia variamente rappresentato nelle sue espressioni cattoliche. Fioroni sarà contento perché c'è molto di Todi, però ci sono tante anime del pensiero e della cultura cattolica, quindi questo è un altro collante diciamo che tiene uniti centrodestra e centrosinistra al di là di Berlusconi. Insomma il timore naturalmente di Berlusconi è che finisca il suo effetto bipolare, così com'è il timore di Bersani, di Di Pietro e di Vendola che sbiadisca quella foto di Vasto. Quindi c'è il ritorno della balena bianca, questo è proprio all'orizzonte, c'era proprio ieri, anzi no, due giorni fa c'era questo convegno con la mostra sulla D5, c'era Fioroni, c'era tutta una serie di personaggi della prima... Nei 150 anni dell'Unità d'Italia, 50 anni di storia, credo che ricordarli, ma abbiamo ricordato una storia, abbiamo messo un seme per ricostruire... No, certo, però era curioso nel momento in cui nasce il governo Monti che c'era questa foto di tanti... Per te uno deve essere ossessionato dal passato, ma pensiamo a costruire il futuro. No, magari, guardando al passato... Siamo preoccupati per il futuro, non ossessionati al passato, che assomigli troppo al passato. Siete, secondo me, ossessionati dal passato, la cosa, devo dire, mi crea preoccupazione perché mi vorrei liberare a queste ossessioni che non hanno motivo da esistere, però poi, insomma, se volete essere ossessionato... Però Barelli è affezionato alla democrazia cristiana, quindi vorrebbe rivederla, insomma, magari un altro nome perché poi... Sì, sì, c'è l'incubi notturni. No, no, nel fondo... Io però volevo sentire da Marco Cobbianchi qual è il suo giudizio, insomma, abbiamo detto il ritrattino di Monti su Panorama non era proprio dei più teneri, l'esordio di ieri in Parlamento come l'hai visto? L'ho visto molto bene. C'è un particolare che mi ha colpito per la sua mancanza, che è quello dei tagli alla spesa pubblica. Di questo Monti ha parlato quasi così di... mi sembra una dimenticanza, insomma, e mi pare che il problema degli tagli in questo momento... Lui ha insistito sulla spending review, forse entrava in quel concetto. La spesa pubblica è intelligente, la spesa pubblica è notevole. Però tutti sappiamo perfettamente che il problema dell'Italia è certamente la mancanza di crescita, cresciamo da prefisso telefonico da dieci anni, è certamente un eccesso di tasse, questo mi ha colpito molto e il governo Monti proponga nuove tasse, ma soprattutto sappiamo perfettamente che il problema italiano è un eccesso di spesa. Noi abbiamo circa 850 miliardi all'anno che escono dalle casse dello Stato, delle quali una buona parte va anche alle imprese private. Ecco, su questo io mi sarei aspettato da Monti, dal liberale Monti, una precisazione più importante. Ma insomma, questo vedremo poi appunto sui risultati della spending review. Per quanto riguarda il ritratto di Monti, io non credo aver fatto un ritratto particolarmente cattivo, anche perché non è quello che voglio fare. Ho soltanto ricordato che quando Monti era commissario europeo alla concorrenza, il commissario ha l'autorità, il dovere, il compito di autorizzare o meno aiuti di Stato. Monti ha autorizzato aiuti di Stato alla Fiat per importi decisamente importanti e lui è stato consigliere d'amministrazione della Fiat. Questo non è un attacco a Monti, questo è semplicemente una notizia, è una cosa che è successa. Non ci sono attacchi pregiudiziali a questo governo e a quello che farà Monti, che tra l'altro è una persona tra le più specchiate che possano esserci. Quindi non è un attacco pregiudiziale, è semplicemente ciò che è successo. Siccome nel libro In Mani Bucati ci sono tutti gli aiuti che ha ricevuto la Fiat negli ultimi 15 anni, nel periodo in cui Cera Monti ha ottenuto altri aiuti di Stato da fondi italiani, da fondi europei, eccetera. Quindi non è una critica particolare. Se permette Molino, io però volevo rompere un po' questo clima idilliaco di unità nazionale che mi sembra che si stia creando nello studio di Roma e anche un po' in Parlamento. Perché in realtà i motivi per i quali il PDL e il PD temono questo governo, sono tantissimi. Per il PDL ovviamente c'è l'ICI e la patrimoniale. Io voglio vedere quando Monti arriverà in Parlamento con la proposta di rimettere l'ICI sulla prima casa e di verificare la possibilità di imporre una patrimoniale. Questo sarebbe interessante sapere da quagliarello cosa ne pensa di questo. Ma anche il PD in qualche modo ha qualche difficoltà con questo governo. Perché ad esempio Fioroni è stato ministro dell'istruzione nel governo Prodi. Monti ha detto tre parole che mi hanno colpito moltissimo perché è esattamente ciò che penso anche io, ma questa è un'opinione personale, quando ha parlato a proposito di scuola di selezione degli insegnanti. Ora, è un po' difficile fare entrare in Italia nella categoria degli insegnanti l'idea che l'insegnante deve essere valutato sulla base dei risultati. Vorrei sapere da Fioroni ad esempio su questo cosa ne pensa. Fioroni due minuti fa ha lasciato cadere una frase che non vorrei che fosse passata in cavalleria, e cioè bisogna, leggo, bisogna chiudere con il liberismo. Ora, se c'è un problema di questo... Con il liderismo. Liderismo. Liberismo, liberismo. No, liberismo. Ah, liberismo, perdono, allora ho sentito male. Liberismo già l'ha chiuso il governo Berlusconi nella distanza che c'era le parole ai fatti. Ad esempio, la manovra di agosto prevede che se non ci sarà una riforma fiscale entro il 2012, nel 2013 la manovra da 26 miliardi che è stata programmata avverrà attraverso il taglio di sussidi, di sconti fiscali anche per la famiglia. Ora, Fioroni su questo che cosa pensa? Lo voterà o non lo voterà il taglio ai sussidi alla famiglia che è il suo, diciamo, cavallo di battaglia? Allora, intanto ci sono molti argomenti a cui rispondere. Spongo all'interno delatorio oppure dopo. Eh, dobbiamo andare in pubblicità, quindi poi, intanto abbiamo tempo per rispondere. A dopo. C'era un po' di risposte in sospeso da parte di Guagliariello e Fioroni alle domande che Cobianchi faceva da Milano. Io però volevo sentire prima l'opinione, perché un po' l'abbiamo capita, ma l'opinione di Riccardo Barenghi su Monti, sul suo esordio, sul governo? Beh, è evidente che diciamo in una situazione, non dico normale, ma insomma anche non normale, ma si sarebbe dovuto andare alle elezioni una volta caduto il governo Berlusconi, no? Eletto dal popolo, cade per ragioni perché perde la sua maggioranza in Parlamento, insomma io la vedo così, cioè è una cosa molto lineare, molto semplice, cade il governo, si va alle elezioni, c'è un'altra coalizione, ci sono coalizioni che si coreano, si formano, chi vince il governo, quindi questo sarebbe per me stata la, avrebbe dovuto essere la strada maestra. Si poteva andare alle elezioni in questa situazione? Non lo sapremo mai, perché non avremo mai la controprova, perché dice, però i mercati due mesi senza governo sarebbe stato un maestro? Forse, probabilmente, ma non ne abbiamo la certezza, si è scelta un'altra strada, che è una strada, diciamo, che rassicura, dovrebbe rassicurare da un certo punto di vista i mercati, la situazione economica, la situazione... Anche Barenghi dovrebbe rassicurare, non so se lo rassicurano. Barenghi? No. Barenghi non lo so da cosa ha rassicurato, comunque non lo so se rassicurerà, questo lo vedremo solo, il governo Monti, non è che la vita del governo Monti non dipende dal PDL, dal PD, chi stacca la spina, chi non stacca la spina, la spina non la staccherà nessuno nell'eventualità che i mercati dovessero andare benino, se migliorano, migliora lo spread, la borsa eccetera, i provvedimenti funzionano eccetera, eccetera, a quel punto nessuno, si assumerà la responsabilità di far cadere il governo Monti e quindi rischiare di andare alle elezioni e di perdere, perché se poi i mercati rispondessero a una crisi in modo drammatico è evidente, se invece Monti non riuscirà, perché poi non basta un governo per, ma insomma la situazione è molto più complessa, a raddrizzare questa barca, allora voglio dire lì durerà pochi mesi e si andrà alle elezioni a giugno, a maggio, a giugno. Però tutti dicono che il programma di Monti sono le cose che l'Italia avrebbe potuto fare da almeno vent'anni e quindi proprio questo governo ha la possibilità di farlo perché nasce, almeno nasce con una larga coalizione e quindi i conflitti che finora hanno impedito la civilizzazione. È una larga coalizione coatta, cioè non è che stanno a loro agio né la destra, né il centro-destra né il centro-sinistra, no in questa cosa qui, ci stanno perché ci devono stare, sono costretti a starci, ma non sono contenti di starci, quindi alla prima crepa e si dà una comitata di qua, una comitata di là, una picconata di qua, una picconata di là, perché è evidente che il PDL si vede a occhio, ha perso il governo, ha perso la sua maggioranza, non è contento per niente, si tiene questa rabbia dentro perché non poteva fare altro e perché poi è stato sconfitto nell'azione di governo, visto che non ha funzionato, lo dico senza nessuna. Il PD, o almeno gran parte del PD, fa finta di essere straconvinto con Monti fino alla morte, che rischia di essere la morte sua del PD, però non di Monti, però è evidente che tutta la sua parte più di sinistra, molti in questi giorni abbiamo letto, abbiamo sentito che c'erano sondaggi che lo davano quasi al 30% e che il fatto di non essere andati delle elezioni con la probabilità molto alta di vincerle insieme alla foto di Vasto, e beh insomma l'ha messa in grande sofferenza, adesso bisogna vedere che cosa farà questo governo e come si comporteranno loro e come se subiranno o non subiranno dei contraccolpi anche di consenso, ma insomma sono tutte e due in sofferenza e tutte e due costretti a stare là. C'è costretti a appoggiare Monti, costretti a convivere, sì. Fintamente convinti oppure non so. Quagliarello, Cobianchi chiedeva che farete su ICI e patrimoniale, magari non la chiamerai in questo modo, Monti però l'ha fatto capire che qualcosa del genere ci sarà. Rispondo a Cobianchi, però prima voglio dire una cosa, noi, io ieri nell'intervento ho detto diamo un sostegno al governo Monti, sofferto ma convinto. Cioè qua è inutile mettere da parte la verità, perché io penso che le cose stanno in questo modo. Qual è il vero convitato di pietra di questa situazione? Per quel che riguarda la situazione generale, ripeto, è la crisi economica, che è una crisi molto peggiore di quella del 1929. Ed è una crisi che mette in dubbio l'Europa. Se posso spendere due parole su questo. Cosa è accaduto? È accaduto che questa crisi è nata negli Stati Uniti, è arrivata in Europa e non è stata una semplice crisi di rimbalzo, perché ha messo in discussione quel meccanismo col quale l'Europa si è fatta, che aveva inventato un signore che si chiamava Jean Monnet, quella per il quale si fissavano degli obiettivi e su quegli obiettivi si aveva un trasferimento di sovranità dagli Stati nazionali all'Unione Europea, fino a quando il processo per gradi successivi si fosse compiuto. È accaduto che sulla moneta unica questo processo si è inceppato. Quindi l'obiettivo è stato posto, ma non c'è stato poi alcun trasferimento di sovranità. Quindi noi ci siamo trovati con una moneta e senza una banca centrale che la regolasse e con 17 governi che non erano più disponibili a cedere, anche se lentamente, a devolvere sovranità. Sono entrati prima in crisi gli stati del Club Med, la crisi è partita a sud e sta lentamente risalendo il corso verso il Baltico, tant'è vero che dopo l'Italia si annuncia già alle porte, anzi ha già sfondato le porte della Francia. Questa situazione ha comportato anche che quell'asse franco-tedesco, che è stato un po' quello che ha regolato l'Europa a lungo a partire dal 1962, invece di essere un fattore di garanzia, spesso e volentieri ha scaricato i propri problemi sugli altri. Questa è la situazione drammatica nella quale ci troviamo. In tutto questo l'Italia ha avuto un punto di debolezza principale. Si può parlare degli altri, ma se vogliamo vedere le cose, ed è il debito pubblico. Noi abbiamo 1950 miliardi di debito pubblico che sono stati accumulati a partire dagli anni 70 e su questo attribuirlo a un governo di centro-sinistro, di centro-destra, è semplicemente ridicolo. Se politica vuol dire partecipare al bene pubblico, noi abbiamo una ragione per farlo, e cioè dobbiamo prendere atto che ci sono state generazioni, tra cui quella di Barenghi, la mia, quella di Fioroni, che hanno scaricato il proprio benessere sulla generazione successiva. E ora siamo ad un punto nel quale i nostri figli si troveranno in un mondo che è molto più complesso del nostro e si troveranno a, se non facciamo qualcosa, a pagare il livello di benessere e di vita di cui abbiamo goduto noi. Allora, se la politica è egoismo, queste cose possono continuare. In caso contrario bisogna porsi questo problema. Porsi questo problema può voler dire, fare delle cose con sofferenza per l'appunto, ma anche con convinzione. Ma non per forza deve voler dire, cogliere l'occasione per tornare indietro e per gettare insieme all'acqua sporca anche il bambino. Io lo dico con chiarezza, il bipolarismo in Italia è stata una conquista di modernità, deve essere migliorato, ma non può essere accantonato. Così come il fatto che ci sono stati dei vettori dell'integrazione di forze che prima erano antisistema. Mi riferisco alle forze di Vasto o ad alcune forze di Vasto o anche alla Lega Nord. Questa è una cosa che non dobbiamo perdere. Non possiamo immaginarci un'Italia che in parte è consociativa e in parte è contro il sistema. Possiamo cercare di trovare il modo che queste forze non facciano ricatti, non partecipino a un clima politico e pongano problemi piuttosto che curare i loro aspetti identitari. Ma a me non piace affatto, lo dico a Lina Palmerini, un'Italia a due compartimenti, una governativa e l'altra antigovernativa. E in questo periodo del governo Monti cercherò di fare in modo che il fossato da una parte e dall'altra possa non diventare un barato. Fioroni, ma questa difesa del bipolarismo di cui parla Quagliariello, lui dice che è un bene che va salvaguardato, non è che adesso rimettiamo tutto in discussione, ma secondo lei è così, condivide questa opinione oppure il bipolarismo a questo punto può anche essere messo in archivio? Io credo che è difficile pensare che le leggi elettorali ci risolvano i problemi di assetti istituzionali che noi dobbiamo riuscire a chiarire, noi siamo un paese che ogni volta invece che evitare di mettere mano alle istituzioni, pensa che con la legge elettorale si faccia le istituzioni, per cui non facciamo una Repubblica presidenziale, ma con una legge elettorale facciamo eleggere ai cittadini il Presidente del Consiglio e poi ci chiamiamo un sistema parlamentare, credo che tutto sommato ritornare a una ordinaria saggezza sia gradito anche agli italiani che ci chiedono di fatto una legge elettorale che garantisca la stabilità, che indichi il Presidente del Consiglio e che gli ritorni a esercitare quella democrazia sospesa da tempo decidendo chi va in Parlamento loro invece che farlo decidere ad altri, questa è una mia profonda condizione, il sistema bipolare non discute della qualità dei poli, discute che ci siano due poli che si confrontano e uno vince, per cui è difficile pensare che con una legge elettorale noi possiamo condensare quali saranno i poli che si confronteranno attribuendo oggi le categorie della politica del domani, che questo credo lasciamolo scegliere ai cittadini italiani. Due sottolineature sulle cose che ha posto Barenchi e che ha detto Quagliariello, diciamoci anche qui la verità, dentro la globalizzazione se noi abbiamo una colpa come Europa e l'abbiamo anche come Italia è che dopo aver fatto la moneta unica abbiamo pensato che la politica europea fosse la politica dello Stato più forte pensando a rotazione che ciascuno di noi poteva appartenere al club di quelli forti che dettavano la linea agli altri. L'Europa non è nata per fare una poliarchia, l'Europa ha senso se è uno Stato che ha al proprio interno federazioni di Stati ma che è uno Stato che ha il coraggio di andare avanti non con meno Europa ma con più Europa. Noi abbiamo fatto la moneta unica poi mentre Monti era commissario, lo ricordo a Pombianchi, tirò fuori il fondo per gli investimenti comuni che poi ci avrebbe dovuto portare agli Eurobond e la gestione comune del debito. Non l'abbiamo fatta perché l'Europa ha rinunciato con buona parte delle spinte anche del governo italiano e la visione della Lega credo che ce la ricordiamo tutti a pensare che gli egoismi e i furbizi dello Stato ci portassero a non avere una politica economica comune, a non avere una politica estera comune, a non avere una politica di difesa comune. Io credo che se noi vogliamo che nella crisi l'Europa esca meglio dobbiamo avere il coraggio di dire con chiarezza che non siamo europeisti a secondo di come ci conviene, soffriamo e pensiamo che l'Europa ci aiuti, poi ci rendiamo conto che nell'Europa che abbiamo costruito ci salviamo da soli e non ci salva nessuno, io credo che se noi abbiamo il coraggio di dire la moneta comune c'ha senso perché facciamo anche una politica comune e anche lì ci mettiamo un pochino di democrazia e togliamo la democrazia sospesa all'Europa e facciamo eleggere direttamente il Presidente della Commissione europea dai cittadini, credo che noi cominciamo a avere un significato di più che ci avrebbe aiutato oggi. Sono tutti molto, uno può essere più preoccupato, meno preoccupato, ma io credo che questa sia una forma di… non avremmo affrontato la crisi in questo modo e non saremmo stati in questo modo, secondo me. Rispetto alle domande di Pambianchi, solo per ricordarle, la scuola, Monti ha preso sostanzialmente quello che fa parte ormai dal 2006 del patrimonio delle normative vigenti nel sistema scolastico italiano, cioè il principio della valutazione delle istituzioni scolastiche, fatto sposando insieme le condizioni secio economiche e i risultati dei docenti e prevedere poi gli incentivi e i premi per chi fa uno splendido lavoro e le correzioni per chi non lo fa e rifarle mettere in circolo, questa già parte dal 2006 della direttiva dell'Invalsi e del Ministero. Come sempre lì ha un problema che Monti ieri ha detto e in tempi precedenti non era stato detto, che per fare la valutazione e incentivare il merito e la progressione bisogna anche avere quel poco di risorse che se vanno messe sull'istruzione servono per il futuro e se non vanno messe sull'istruzione non producono futuro. Monti ieri ha ricordato uno splendido studio del Banco Italia che un anno di istruzione in più per i nostri giovani e una percentuale di incremento dei laureati e dei diplomati in questo Paese si traduce in un incremento del prodotto interno lordo che non ha nessun altro intervento di natura economica e infrastrutturale al nostro Paese. Questo sostanzialmente nelle breve parole che ieri ha detto, quindi io non ne trovo nessuno, non solo in nessun imbarazzo, ma mi è dispiaciuto che non siamo riusciti né noi prima né il governo Berlusconi dopo a dare un contenuto ad affermazioni di principio che ci vedevano già allora in questo percorso. Sulla famiglia, io devo dire la verità, non mi è sembrato che ieri Monti ha detto spoglieremo le famiglie aumentandogli le tasse e faremo godere gli altri. Io credo che ieri Monti con grande chiarezza ha detto che se non si possono ridurre le tasse si può ridurre la percentuale di partecipazione della tassazione riducendola a chi produce lavoro e alla famiglia che ha già dato e aumentandola a coloro che non hanno produzione di ricchezza, ma solo produzione di lavoro e famiglia, ma che hanno produzione di ricchezza. Io più la rileggo più ci leggo questo e non mi sembra oggettivamente una cosa difficile da votare per me, anzi se la fanno subito sarebbe lieto. Io volevo chiedere a Lina Palmerini, che insomma prima all'inizio dicevo abbiamo due esponenti dei principali partiti della maggioranza, ma che cosa ci aspetta nell'universo politico nei prossimi giorni, nei prossimi mesi? Io volevo riprendere quello che diceva il collega Cobianchi da Milano e con quello che diceva il senatore Quagliariello, cioè Cobianchi poneva un problema di misure annunciate da Mario Monti, per esempio la patrimoniale, per esempio la riforma del mercato del lavoro e diceva voglio vedere l'effetto che faranno sul centro-destra e sul centro-sinistra. Ora, l'effetto è quello di, e torniamo sul bipolarismo, l'effetto sarà quello di vedere quanto artificioso sia stato il bipolarismo fino ad oggi, perché la patrimoniale per esempio, la patrimoniale è stata estremamente divisiva nel centro-destra, c'è una parte del PDL che ha spinto per la patrimoniale, la parte più berlusconiana che invece l'ha rifiutata e l'ha rifiuta ancora, la Lega che per esempio voleva la patrimoniale mentre rifiutava la riforma e le pensioni che invece era così un cavallo di battaglia del PDL, quindi diciamo sulle riforme il bipolarismo è un po' finto, così come il mercato del lavoro, sul mercato del lavoro parliamo con Beppe Fioroni e sicuramente sarà d'accordo con le cose che ha annunciato Monti, così con lui Enrico Letta per esempio, così tutta la parte diciamo veltroniana, sicuramente non è e non sarà molto d'accordo la parte più vicina a Bersani, quella del responsabile economico Fassina che già ieri ha detto vorrei capire meglio cosa vuol dire questa riforma e il mercato del lavoro e sicuramente non sarà su quella posizione... Be', potevate farlo anche prima, anche Michi Vendola credo, quindi ecco qui torniamo un po' sulla questione del bipolarismo, io capisco la difesa del senatore Quagliorello e la condivido anche, però il problema di questo bipolarismo è stato che è stato un po' finto, è stato non sugli argomenti, non sui temi, adesso quando arriveranno le riforme di Monti, siccome sono molto chiare, ieri Monti non ha dato margini di ambiguità, le pensioni, anzianità non anzianità, il mercato del lavoro, duale non duale, lì si tratterà di vedere appunto come voterete e come vi... Poi parliamo dei temi magari, ma semplicemente una piccolissima interruzione, dal tuo punto di vista il bipolarismo è sempre finto, se tu vedi gli schieramenti in Gran Bretagna o in America o anche in Francia, convivono all'interno dello stesso partito, persone che la pensano in modo estremamente diverso... Posso dire qual è la differenza? Posso dire qual è la differenza? Che alla fine in Italia questo ha bloccato le riforme, perché voi potevate farle, invece sono state bloccate, lì no, perché chi lince poi alla fine le cose le fa... Ma qual è il problema? Il problema sono le istituzioni, questa è la vera differenza, su questo devo dare ragione a Fioroni, noi abbiamo pensato di costruire il bipolarismo con la legge elettorale, se si vedono i sistemi bipolari, i sistemi bipolari hanno innanzitutto un assetto delle istituzioni, un funzionamento dei poteri che consente di trovare delle sintesi e che consente ad alcuni di fare la loro battaglia all'interno del loro polo, magari la battaglia di minoranza, questo è quello che in Italia... Scusa, io non sono completamente d'accordo, penso che questo sia un alibi della politica, perché alla fine le resistenze a fare le riforme, l'attenzione per gli elettorati diversi, eccetera, ha portato a un blocco di questo, al di là degli assetti istituzionali. Alla fine il motivo per cui c'è Monti e il motivo per cui dite sospensione della democrazia è perché poi alla fine è la politica che non ha fatto quello che si doveva da vent'anni a questa parte, l'ha detto lui stesso, anche Monti in vari suoi interventi, ha detto alla fine le riforme non si sono fatte perché ciascuna parte politica ha avuto un eccesso di attenzione verso la propria constituent, l'ha detto in inglese, verso il proprio elettorato. E il punto è questo, e anche ieri ha detto l'emergenza economica e poi la ragione per cui io sono qui. Cioè, diciamo, i problemi si sono aumentati in maniera esponenziale finché poi è arrivato il commissario Monti alla fine. Certo, perché è semplice per il centrodestra dire no all'IC, meno tasse per tutti, vabbè, questo è molto semplice, poi però alla fine, come dicevi te prima, se il debito è oltre 1.900 miliardi e la metà di questo debito è detenuto da investitori internazionali che quindi condizionano anche la politica interna, alla fine devi incidere sul debito e questo non si fa soltanto riducendo o riducendo le tasse, ma si fa facendo delle riforme dolorose, dei sacrifici, eccetera. Dobbiamo andare in pubblicità, prego Cubianchi da Milano di avere pazienza, ha saltato questo giro, cominceremo con lui dopo la pubblicità. Allora, andiamo da Marco Cubianchi a Milano, perché io volevo tornare su un punto del discorso di ieri di Monti, quella puntualizzazione è un po' a sorpresa che ha fatto nella replica non siamo il governo dei poteri forti, che è l'accusa che viene da tutti gli ambienti che contrastano questo governo, che siano giornali vicini al centrodestra come Il Foglio, come Libero, oppure anche vicini al centrosinistra, la parte del manifesto, altre testate, altre forze politiche, la Lega in primis, che è quella che in aula ieri, l'unica forza che ha contestato apertamente e si è messa all'opposizione di questo governo. Quanto era fondata questa accusa? Perché Monti ha sentito il bisogno di smentirla così categoricamente? L'accusa è totalmente infondata, nel senso che io non li ho mai visti questi poteri forti e faccio questo mestiere da diverso tempo, non so cosa siano i poteri forti, che cos'è la Goldman Sachs, è la banca centrale, non lo so, non credo che si possa parlare di poteri forti, se vogliamo parlare di lobby allora su questo magari si può ragionare e d'altra parte i poteri forti, quando Quagliarello prima diceva l'accessione della sovranità politica a un livello superiore, cioè alla BCE, beh è questo, cioè Draghi è esattamente questo, non si può dire che l'Italia è commissariata e nello stesso tempo dire che la soluzione al problema della crisi dell'euro è che i paesi nazionali non hanno accettato di cedere sovranità popolare, è una contraddizione. Posso dire, posso replicare? Io chiudo con una questione per rispondere a Fioroni, sempre a proposito della scuola perché è un tema che so che gli è caro, ma ieri hanno protestato degli studenti in grandi città italiane, se questo governo inciderà effettivamente nella struttura della scuola italiana avremo nuove proteste e non soltanto di studenti, avremo proteste dei sindacati, dei sindacati confederali. Ora Fioroni appartiene a un partito che fino a ieri stava con chi andava in piazza, ora dovrà stare con chi invece quelle misure prende quindi contro quella piazza e sarà un problema, ripeto, a me non piace questo clima un po' zuccheroso che si sta realizzando in Parlamento per cui sono tutti d'accordo che occorre fare delle cose e Monti le deve fare e noi le sosteniamo. Ma io, anche per rompere un po' le scatole, ci sono dei problemi seri, reali, che incideranno realmente nella Costituensi dei due poli. Un'ultima cosa sulle riforme, insomma questa storia è anche delle riforme che i partiti dicono Monti le deve fare, lo sosterremo e siamo d'accordo con lui. Allora, strappiamo un attimo un velo, non più di un mese fa è stata messa al voto, alla Camera, una proposta dell'Italia dei Valori di abolire i vitalizi per i parlamentari, abolirli. Ci sono stati 22 favorevoli e 498 contrari. Non è che c'è bisogno di un professore della Bocconi che venga da Milano a Roma e dica adesso bisogna tagliare i costi e la politica e siete tutti d'accordo. Insomma, lo potevate fare appena un mese fa e mi chiedo perché non l'avete fatto. Allora, risposta ad obbligo Quagliariello e Fioroni. No, innanzitutto il problema della sovranità. È evidente che nel momento nel quale parlo di cessione della sovranità, con bianco non parlo di cessione della sovranità alla BCE, cioè non si è costruita l'Europa, non si è costruita una democrazia europea. Il problema è esattamente questo, che la sovranità avrebbe comportato delle istituzioni per le quali sarebbe stato ancora il popolo a decidere. È esattamente quello che non è avvenuto. L'Europa era la costruzione non soltanto di un'Europa economica, ma era la costruzione di un'Europa politica che avesse un'anima e che quindi potesse anche costruire una democrazia. Questa era l'Europa di De Gasperi, di Schumann, di Adenauer, ed è su questo ritardo che noi oggi ci confrontiamo. Quindi è evidente che è esattamente questo il motivo per il quale la democrazia è sospesa. Noi abbiamo cessione di sovranità, ma non nei confronti di istituzioni politiche. E quindi i governi vengono, tra virgolette, decisi, non dal popolo a livello nazionale, nemmeno dal popolo a livello sovranazionale. Questo è un problema che ci dovremmo porre. Come funziona la democrazia nell'epoca della globalizzazione? È evidente che non è un problema di critica politica, è un problema su cui però invece tutte le forze politiche serie farebbero bene a riflettere dopo quanto è accaduto. per quel che riguarda anche quello che si è fatto. Io vorrei su questo ricordare che la portata del problema è quella che ha detto anche Monti ieri, cioè un debito pubblico che si è costruito in 50-60 anni. Non è che la politica rispetto a questo non abbia fatto nulla. Anche l'ultimo governo ha portato la situazione nella direzione di un pareggio di bilancio, cioè l'abrogazione del deficit, chiamiamola così, che in Italia è una cosa che non avviene dal 1876. L'ultima ad averla realizzato è stato un signore che si chiamava qui in tirosella nel governo Minghetti. La portata delle manovre fatte dall'ultimo governo supera i 200 milioni di euro, cioè sono manovre che nella storia repubblicana non trovano precedenti. Quindi anche su questo, diciamo le cose... Ma non mi pare con grandi effetti positivi, vista la situazione in cui siamo ridotti, no? Il problema... Voi siete caduti, lo spread sta lì, tutto che abbiamo governo, la lettera del BCE, eccetera, eccetera. Scusami, ma se mi dite... C'è stato... Se dite che noi abbiamo fatto manovre che nessuno ne aveva mai fatto, l'avete fatte male, forse, no? Non so, forse non erano quelle giuste. Barenghi, se tu mi... A parte la cifra, dico. No, ma per chiacchierare... Sì, ma ti rendi conto in quali tormenti si trova il giovane Obama che è arrivato sul... Non mi sembra che la signora Merkel se la passi meglio oppure che Papa Andreo abbia avuto una grande... Quindi l'avete fatto tutto perfettamente. Non sto dicendo questo, sto dicendo che se vogliamo essere oggettivi dobbiamo dire che siamo in una crisi per cui nessun governo aveva le chiavi della soluzione. E quindi, perché i giudizi vanno dati, confrontati al momento storico, ultima cosa, i costi della politica. È anche questa polemica, diciamo, tra virgolette, sui vitalizi. Siamo sicuri che è giusto tagliare i vitalizi da un momento all'altro? Vogliamo riportare una concezione... Spieghiamo anche cosa sono i vitalizi. Spieghiamo, vogliamo spiegare cosa sono i vitalizi. I vitalizi sono, in realtà, le pensioni che i parlamentari percepiscono, tra virgolette, pagando una parte dei soldi che hanno per questo. Ora, ci sono situazioni che sono molto differenti. Ci sono dei vitalizi che sono aggiuntivi e che magari sono i terzi o i quarti e come tali vanno abrogati. Ci sono anche situazioni nelle quali c'è chi ha fatto prevalentemente nella sua vita il parlamentare e ha solo quel vitalizio che si è pagato. Quindi io credo che rimettere mano a questa materia è assolutamente giusto. Ma se non vogliamo entrare in una concezione per la quale la politica la fanno soltanto i ricchi e chi se la può permettere, c'è una differenza tra... Cioè è la pensione di chi ha fatto sempre il parlamentare, diciamo, in certi casi... Il parlamentare è chi ha la quinta pensione, ad esempio, la quarta pensione o la terza pensione. Quindi è una materia che va assolutamente rivista. E i costi della politica vanno tagliati, anche drasticamente, ma vanno tagliati tenendo conto di una logica istituzionale, non tenendo conto di una logica tra virgolette moralistica. Faccio solamente un esempio. No, non è... Faccio solamente un esempio. Riduzione dei parlamentari. Assolutamente necessario. Vogliamo collegarla a una revisione dei rapporti tra Camera e Senato? Vogliamo rivedere il bicameralismo e decidere cosa fa la Camera e cosa fa il Senato? Se noi tagliamo i parlamentari e stabiliamo cosa debbono fare, c'è un risparmio effettivo perché delle istituzioni che funzionano portano un guadagno allo Stato, netto. Se facciamo un taglio per ragioni moralistiche, ma lasciamo il fatto che per fare una legge in Italia ci vogliono più di 500 giorni di media, laddove negli altri paesi ce ne vogliono 250, noi avremmo gettato un osso all'opinione pubblica, ma non avremmo fatto un favore al nostro paese. Quindi è evidente che queste cose vanno fatte, è evidente che farle bene non può essere una scusa, cioè vanno fatte anche presto, però vediamoci dentro. Non è che se no mettiamo solamente i titoli e poi non sviluppiamo le proposte. Riprendendo quello che ha detto Quagliariello e l'osservazione che ha fatto Barenghi, io credo che vari governi nel corso degli anni hanno messo mano. Se vediamo le statistiche ci accorgiamo che i governi Prodi e il governo D'Alema hanno non solo riportato l'avanzo primario, ma hanno anche iniziato la riduzione del debito e non il rapporto tra debito e PIL. Noi abbiamo un problema vero, è che la crescita ci ha sempre consentito di pagare gli interessi su un debito anche su un debito che aumentava. Oggi dobbiamo fare i conti che anche riprendendo la crescita dobbiamo ridurre quel debito per riuscire a colmare il divario che c'è tra quelli che non possono essere sfrattati dal futuro, che sono i nostri figli e quello che sono state le responsabilità che le generazioni di adulti hanno generato. E questo è un passaggio che dobbiamo fare una sola nota. Il governo Berlusconi ha fatto tutto. Io mi permetto solo di dire che ricordo le dichiarazioni del ministro Tremonti di Berlusconi. Io non mi sono mai inteso del partito di quelli che fanno parte di essere iettatori e che portano male, però siamo stati dipinti per tre anni e mezzo come quelli che quando parlavamo eravamo talmente meragrani per l'Italia che era bene che fossimo allontanati. Forse se accorgersi della crisi invece che a crisi precipitata lo avessimo fatto prima, molto probabilmente si sarebbe fatti conti con una realtà diversa e questo è un dato oggettivo. Purtroppo dentro la crisi non basta soltanto fare le cose giuste. Bisogna fare una cosa che in Italia si fa difficilmente, fare la cosa giusta al momento giusto, perché se la cosa giusta si fa in ritardo, quello che produciamo non copre neanche i danni che sono stati fatti in precedenza e quindi è come se non l'avessimo fatto. E questo vale per le manovre che spintaneamente sono state fatte. Quindi l'aver negato l'evidenza e l'aver pensato che era solo frutto di accanimento e pensare più alla sopravvivenza che al passo indietro per generare una stabilità, molto probabilmente credo che questa sia la colpa politica maggiore. sulla scuola, io non ho questo terrore di essere tutti in un clima di zucchero e di miele, per me anche se si aspetta un po' di tempo si accorgerà che sarà tutto meno che tarallucci e vino sia in Parlamento che nel Paese. Però io la racconto così, dopo 8 miliardi e mezzo di tagli alla scuola italiana, mi creda, anche se Profumo volesse essere Dracula e monti l'iperdracula a quella scuola non si può levare di più, si può solo fare di meglio e credo che questo, anche se lei non lo condivide, è una realtà di fatto. Il di più significa oggi migliorare la qualità, ridare una prospettiva e investirci qualche lì da sopra. Io sono dell'idea che l'unico modo per realizzare una scuola realmente competitiva in grado di dare ai ragazzi la possibilità di trovare un vero lavoro stabile sia quello di mettere in concorrenza la scuola pubblica con la scuola privata, in modo che il figlio dell'operaio possa andare a studiare alla Bocconi e alla Bocconi non ci possano andare soltanto i figli degli avvocati o dei notai. Questo è l'obiettivo, questo si raggiunge attraverso una competizione tra le scuole private e le scuole pubbliche, facendo in modo che ogni scuola possa scegliere gli insegnanti migliori. Gli posso raccontare un aneddoto, io sono diventato ministro della scuola nel 2006, a settembre del 2006 arrivo alla stazione di Napoli, scendo, esco fuori e vedo uno splendido manifesto 6x6, che c'era scritto, se hai poco tempo e niente voglia, vieni da noi e ti diplomi. Ecco, io credo che non sia solo questione di competizione. No, onorevole, lei sa bene che le scuole private non sono soltanto diplomifiche, lo sa bene. Diciamo che questa è una cosa che ci dobbiamo ricordare, perché è un bene di questo nostro paese rimuovere questo e generare anche... Ma quindi la sua risposta è no, la sua risposta è no alla concorrenza tra pubblico e privato nella scuola. La mia risposta è applicare la legge dello Stato, che è la legge 62, fatta da un ministro di centro-sinistra che prevede la scuola paritaria e gli rammento, ahimè, che il governo che forse lei rimpiange un pochino e che io rimpiango molto meno, è riuscito a dare meno soldi. No, io non lo rimpiango, onorevole, non lo rimpiango. Allora, non lo rimpiangevamo insieme, così non ne parliamo più, che è un'opera di bene pure questo per il paese. E tutto sommato, i soldi che ho dato io e insieme con quel terribile ministro Ferrero non sono stati in grado di essere dati dal governo di centro-destra e le scuole paritarie ancora rimpiangono, ahimè, un governo di fondazione comunista, perché abbiamo dato molto di più di quello che hanno dato loro a conti fatti nel bilancio dello Stato. E anche con l'assessamento non ci sono arrivati. Non si tratta di soldi, uno sta dicendo che ha governato in modo diverso nel Medioevo e nel tempo contemporaneo. Io, insomma, però sono rimpianti. Perché sono due epoche storiche differenti. Volevo coinvolgere Barenchi e Lina Valmerini. Ma, insomma, oggi ci sarà l'esordio di Berlusconi, il ritorno di Berlusconi a Montecitorio da semplice deputato che parlerà, immagino, a nome del PDL in aula nel dibattito sulla fiducia. Però, insomma, siccome sono già state fatte celebrazioni, funerali e quant'altro, ma Berlusconi è destinato piano piano a sparire dalla scena politica, secondo te, oppure invece dobbiamo aspettarci ancora un Berlusconi che raddoppia, come sta dicendo, da qualche giorno? Intanto, una notazione, diciamo, l'aggettivo semplice quando è riferito a Berlusconi non funziona. Non va bene, non è mai semplice. Non è un semplice deputato, non è un semplice imprenditore, non è un semplice presidente del Consiglio, non è semplice per niente. Da semplice ex premier. Quindi questo già dice che è difficile fare una previsione. Io la butto lì, tanto poi che se la ricorda. Secondo me Berlusconi va a finire come leader politico, come ovviamente non credo che tornerà mai più a Palazzo Chigi, non credo nemmeno che si ricandiderà alle elezioni per il PDL o come si chiamerà nel futuro, a meno che queste elezioni non avvengano, non precipitino subito, perché cade il governo Monti, se si va alle elezioni a marzo-aprile, allora potrebbe esserci per lui una chance, perché poi voglio dire, ha ancora una certa capacità di attrazione per un elettorato, sempre meno mi pare, io non lo dico contento, lo vedo, si sente che Berlusconi sta chiudendo la sua parabola politica. Mi aspetto oggi un discorso con qualche paletto, qualche segnale di attenzione, qua ci sono io, ci siamo noi, quindi senza di noi, però tutto sommato un discorso che sarà più simile al suo messaggio televisivo dell'altro giorno, quando era molto moderato, molto conciliante e così via. Questo mi aspetto, posso anche qui sbagliare essendo Berlusconi, diciamo imprevedibile. Quello che mi interesserebbe è capire se intanto Quagliariello condivide questa cosa e se la condivide come lui vede, come loro vedono il futuro del centrodestra, semmai questo centrodestra resterà in piedi, così come oggi, senza Berlusconi. Cioè se basterà nominare Alfano al posto di Berlusconi oppure ci sarà qualche problema ulteriore, come io penso. Posso rispondere subito perché così almeno dialogo con il caso. Sì, sì, infatti diamo altri elementi. No, dal mio punto di vista il tema è tutto sul governo Monti, cioè se Monti riesce nella scommessa di salvare l'Italia, diciamo così, cioè di portarla un po' fuori dalla crisi, è evidente che se questo progetto, se questa missione, come l'aveva chiamata, mi pare proprio il senatore Quagliariello, questa missione avrà successo. È evidente che niente sarà più come prima, cioè non ci saranno più i leader che vediamo oggi, non ci saranno più gli schieramenti come li vediamo oggi. Un ritorno di Berlusconi e un ritorno della politica così come oggi, io me l'aspetto soltanto in caso di fallimento del governo Monti. Così come mi aspetto le elezioni a breve, non perché le chiami Berlusconi e dia, non so, una deadline a questo governo. Il problema sarà sempre quello, sarà sempre la crisi, ecco, se questa larga coalizione si incepperà sulle riforme da fare, ecco, allora sì, ma la posta in gioco è enorme ed è il fallimento dell'Italia. Io credo che anche sulle riforme, poi nel concreto, nel momento in cui si dovranno votare, è difficile che un partito o un pezzo di partito non lo faccia, perché si prenderà su di sé la responsabilità di aver fatto fallire un progetto, diciamo, di salvezza, di impegno nazionale come l'ha chiamato Monti. Quindi penso che sarà molto difficile, come diceva Riccardo, è una coalizione coatta, ma molto coatta, perché la posta in gioco è molto alta, chi è che si assume la responsabilità di staccare la spina in queste condizioni? Io penso che nessuno avrà questo coraggio. Sentiamo se Quagliariello vuole rispondere a questo, stiamo prospettando il futuro del suo partito. Mi sembra che i due colleghi dicono una cosa, cioè si apre una fase politica di grande vivacità e anche di grande incertezza. È evidente che non vale, ma questo credo che non lo faccia valere neanche Monti, diciamo questa sorta di ricatto. Questo governo è indispensabile per salvare l'Italia, se l'Italia si salva la politica muore, fa un passo indietro. Non è così, cioè questo governo nasce anche per una scelta consapevole della politica. E in particolare io vorrei dire una cosa che nessuno dovrebbe dimenticare, cioè il governo Berlusconi non è stato sconfitto, non è stato sfiduciato. Il governo Berlusconi aveva una maggioranza assoluta alla Camera, aveva una maggioranza relativa, scusate, una maggioranza assoluta al Senato, una maggioranza relativa alla Camera, probabilmente mettendo il voto di fiducia, avrebbe ricevuto la fiducia. La fiducia. Ma come no? Ma non l'avrebbe ricevuto. Ormai era evidente. Posso dirti che non l'avrebbe ricevuto. Fidati, erano 309 voti, tranne gli assenti, i malati, i capi, oddio buono, sto dicendo, non è stato sconfitto. Berlusconi ha fatto un passo indietro e vorrei ricordare questa cosa, cioè Berlusconi come dice Barenghi non è un personaggio semplice, si dimentica anche, la politica è durata, c'è poco da fare, no? Quando Berlusconi è arrivato si diceva non mangia il panettone nel 94, Berlusconi non ha fatto solamente il... No, l'ha mangiato di poco, no, 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 è di mezzo a ormai. Voglio dire, e si diceva sparisce, cioè è una cosa che si pensava. E quello era un errore, sì. Ecco, sono 20 anni. Voglio dire, se la politica è durata questo conta qualcosa. E rispetto alla democrazia, Berlusconi in questi vent'anni non ha fatto sempre il Presidente del Consiglio, non ha sempre vinto, ha perso delle elezioni, ha fatto l'opposizione, è ripartito. Cioè è una persona, diciamo, tra virgolette. Quello che voglio dire è che io penso... Ripartirà anche stavolta o no? Io penso, non penso che torni, che si eclissi. Io penso che ci sia un'altra cosa, la lettera lo fa già immaginare. Berlusconi può giocare un ruolo differente, può giocare un ruolo, tra virgolette, di teammaker nel centro-destra. In questo Paese non ci sono molti padri storici. Non ci sono persone che... Per la Palmerini vuol dire che così non ci sarà più il... Beh, Kingmaker è una cosa diversa da l'idea. Per la Palmerini ha una concezione della politica. La domanda è, Berlusconi si ricandida o meno? Questa è una scelta che farà il PDL al momento opportuno. Non è scontato. Berlusconi rimane nel panorama politico come punto di riferimento del centro-destra? La risposta è scontata, è sì. Questa è la cosa. Così come si è detto sempre che il PDL è un partito, perché il PDL, Forza Italia, è un partito di plastica. Si è scoperto improvvisamente che ha un milione e duecentomila iscritti. Questa è una cosa che in Italia non accadeva dal tempo dei partiti storici. Che cosa significa? Che in questi vent'anni si è sedimentato qualcosa che non viene meno, con la quale tutti devono fare i conti. C'è una base identitaria e una base nel paese consolidata ai centro-destra, che è una delle vere novità dell'Italia. Perché l'Italia non l'ha mai avuta. La destra in Italia è stata, tra virgolette, in qualche modo inventata da Berlusconi. La destra nel periodo repubblicano. Non c'è mai stata una forza con un insediamento sociale oltre che con un insediamento politico. Ecco, quindi, io vorrei che nel considerare questa fase di grande vilacità si consideri anche quello che in qualche modo è stabile e non viene meno. Io credo che a Berlusconi vada dato atto, io sono per la teoria che le onore delle armi all'avversario che ha combattuto e che è stato un grande combattente che ha imperversato sulla scena politica per volere degli elettori per vent'anni di vada riconosciuto. Io la ragiono così, però. Berlusconi ha davanti a sé la scelta di poter essere ricordato per aver dato la cifra di questa seconda repubblica oppure ritagliare per sé il ruolo dell'edera che sta vinghiata al tronco sempre più secco, decadente e asfittico del ricordo di ciò che è stato come personaggio politico. E siccome è uno che è abituato a essere il primo o non c'è, la sfida vera che io vedo è che o la PDL ha un gruppo dirigente che non si sente più, il PDL, scusa, è vero, con la L finale, o il popolo della libertà è in grado di essere autosufficiente e non sentirsi con il complesso di coloro che gestiscono contotersi i consensi del caro in via di estinzione Berlusconi e oppure Berlusconi si accontenterà di essere il leader di un partitino e qualcun altro farà qualcos'altro. Allora, noi intanto dobbiamo andare in pubblicità, questo sicuramente faremo adesso. Allora, andiamo da Marco Cobbianchi a Milano. Visto che da quelle parti la Lega, la sua scelta di andare all'opposizione, quanto può pagare in questo momento? Scusate, non sentiamo, c'è un problema con l'audio. Si sente? No. No, purtroppo non sentiamo Milano, allora riprendiamo tra appena mi dicono che il collegamento è tornato... Mi sentite? Ecco, adesso ci sentiamo. Ecco, adesso sì. No, dicevo, la posizione della Lega, la scelta della Lega probabilmente sarà dal punto di vista elettorale, quando si andrà a votare pagherà sicuramente, perché è l'unica che avrà le mani libere per denunciare la supposta macelleria sociale che Monti si appresterebbe a fare. Però io credo che la vera divisione che avverrà nella politica italiana, non so, probabilmente sì, si rimescoleranno le carte, ma il vero taglio, il vero discrimine sarà tra chi accetterà uno shock liberale che Monti ha, di cui Monti ha parlato ieri al Senato e che sono molto curiosi di vedere se, e credo proprio di sì, ribaderà oggi alla Camera, e invece quelli che non accettano questo shock liberale, perché Monti questo in realtà al fondo del suo discorso di ieri al Senato ha posto, e cioè una maggiore concorrenza, liberalizzazioni e privatizzazioni. Sarà molto interessante vedere chi all'interno del Parlamento lo segue su questa strada e chi invece no, al di là degli agglomerati politici che si potranno o non si potranno costituire in seguito. Quaglierello, una battuta sugli ormai vostri ex alleati leghisti. Ieri al Senato, questa lega che è subito passata dal governo all'opposizione in pochi giorni, è una posizione convinta, quasi, si può dire per certe cose anche un po' pregiudiziale. La lega è una forza territoriale e anche una piccola forza. Poteva permettersi uno scarto di responsabilità che il PDL non poteva permettersi. Detto questo, noi non pensiamo che questa scelta non abbia conseguenze, anche rispetto all'alleanza. D'altra parte, non dimentichiamo il percorso che la lega ha fatto per integrare la sua forza popolare nelle istituzioni nazionali. E non dimentichiamo anche alcune riforme, un tema di federalismo, la stessa riforma dello Stato che è stata presentata da Berlusconi e Bossi, che è una riforma molto equilibrata che noi pensiamo possano essere un terreno su cui la collaborazione continua. Io, per esempio, con Gasparri, Calderoli, Bricolo, ripresenterò quella proposta sperando che possa essere la base anche per una discussione più ampia. Ecco, voglio dire un'ultima cosa, riprendendo il concetto che è stato espresso dal collega da Milano, ed è questo. Sì, se c'è questo shock liberale, se effettivamente ci sarà, è evidente che anche su una serie di misure che non ci fanno piacere, si potranno avere dei margini. Perché in questo momento, se non si hanno dei margini, evidentemente non si fa politica, si fa altro. La cosa importante è che non ci sia poi invece un'inversione di paradigma, per cui le tasse diventa il capitolo principale e invece lo shock liberale diventa un'aspirina. Ecco, in questo caso, evidentemente, dovremmo trarne le conseguenze. Mercato Barenghi, presente, con la fiducia della Camera, quindi con il via libra dei definitivo al governo Monti, comincia la Terza Repubblica o è un'espressione un po' eccessiva? Se il governo Monti durasse un anno e mezzo, cioè se arrivasse alla fine della legislatura, sì, come abbiamo detto anche qui stamattina, cambierà, cambia la politica, cambia l'assetto, cambiano i poli, cambiano i partiti, cambia un po' tutto. Se dovesse durare pochi mesi, allora no, allora si ricomincia da dove avevamo finito l'altro giorno. Però, sì, comincia la Terza Repubblica. Cioè, come il governo Ciampi è stato praticamente lo spartiacque tra la prima e la seconda? Ammesso che la seconda sia mai nata, o si sia mai strutturata, però è nata una bis, però se Monti dura si comincia un'altra storia. Nia Valmerini è così? Sì, poi volevo fare anche una battuta sulla Lega, perché il calcolo della Lega è un calcolo a breve, nel senso che adesso può lucrare o pensare di lucrare dei voti facendo opposizione contro la macelleria sociale, eccetera. Però stare così all'opposizione, innanzitutto l'ha appena detto il senatore Quagliariello, insomma esce un po' fuori anche da una partita politica molto importante, perché se poi il PDL si assume la responsabilità e anche il sacrificio di certe scelte sul proprio elettorato e lo fa insieme alle opposizioni, è evidente che la Lega resta un po' ai margini, anche magari di una ricomposizione dei poli. E lo stesso vale anche per quanto riguarda la legge elettorale, è evidente che se PD e PDL si sacrificano a votare tutte queste riforme dolorose, sarà più facile per loro trovare un'intesa sulla legge elettorale e lasciare un po' più ai margini gli interessi della Lega. Poi c'è il referendum sulla legge elettorale, potrebbe risolvere così, lo risolve il referendum la riforma della legge elettorale. Sì, insomma, quindi lo vedo comunque la cosa un po' rischiosa. Volevo dire anche un'altra cosa a proposito di Terza Repubblica, forse prima si era parlato con un'accezione negativa di questo clima zuccheroso, forse già questo inaugura la Terza Repubblica, cioè il fatto che campi avversi comincino a dialogare. Io non credo che questa abbia un'accezione negativa, clima zuccheroso, eccetera. Mi pare invece che possa essere anche un sollievo per i cittadini il fatto che due forze responsabili dialoghino seriamente e arrivino anche all'obiettivo, cioè a portare avanti delle riforme che servono. E a proposito di questo, non c'è solo la responsabilità di Berlusconi che ha fatto il passo indietro, lo dicevamo durante la pausa pubblicitaria, c'è anche la responsabilità di Bersani, perché anche Bersani ha fatto un passo indietro responsabilmente, ha sacrificato comunque un obiettivo a breve termine, se si fosse andato alle elezioni probabilmente avrebbe vinto la famosa... Esatto, all'elettorale, quindi insomma il sacrificio è stato anche del PD, comunque aveva dato atto anche a Bersani di aver fatto un passo indietro di grande responsabilità. Potevate vincere a mani basse le elezioni? Questa è l'osservazione che ha fatto la Palmerini, è la dimostrazione che il termine di coalizione coatta è forse improprio, perché se alla fine si è rinunciato a ciò che era più opportuno per una parte, che era quella di andare al voto rapidamente e a vincere in ogni caso, credo che è la dimostrazione che, non so se è la prima Repubblica B o la seconda Repubblica frammento, però sta di fatto che la logica di perseguire una politica solo dello scontro frontale, dove quando il nemico è ferito lo devi abbattere e l'unica cosa che devi fare è che chi vince piglia tutto e gli altri scompagliano, è una logica che è stata messa in secondo piano rispetto al ritorno. Sì, ma grazie allo spread, in questo senso io e Riccardo parlavamo di coazione, perché è la crisi che vi ha costretto. Io credo, adesso anche qui dobbiamo essere onesti, prima ancora che lo spread volasse per quello che riguarda il PD e la parte maggioritaria del PD, l'idea è stata sempre quella di costruire un meccanismo di governo che consentisse di fare ciò che era urgente e prevenire la consultazione elettorale con una serie di interventi che mettessero in sicurezza il Paese. Questa è una scelta responsabile ed è una scelta che mette al centro l'interesse di tutti meno che quello di una parte. E Bersani gli va riconosciuto che ha giocato la partita dell'interesse generale anche se questo cosa ha con l'interesse di parte. Poi sentiremo oggi difendere questa scelta in Parlamento. Avete visto prima la regia ha mandato in onda le ultime notizie, lo spread, che purtroppo l'Italia rimane molto alto, quindi Quagliariello dirà che non era Berlusconi il problema, siamo ancora a 500 punti, però la Spagna ci ha superato. Manca sempre la controprova di dove saremmo se non se n'era andata. Nessuno sarebbe potuto prendere la responsabilità di elezioni anticipate, perché appiccicandogli addosso la responsabilità in mancanza di una controprova le elezioni sarebbero state disastrose per chi si fosse assunto questa responsabilità. Da quello che viene fuori, diciamoci la verità, il grande protagonista di questo momento è la crisi e questa non è una crisi ordinaria. Ed è una crisi, anche questo ci dobbiamo dire la verità, che è diventata drammatica dopo che l'Europa non ha fatto quel che doveva fare sulla Grecia. Quindi anche su questo, non è che questa crisi, c'è chi l'ha vista in tempo e bisogna dare atto a Tremonti che l'ha vista prima di altri, l'ha scritto anche in un libro. C'è chi l'ha affrontata, no, chi l'ha affrontata... Ma come no, Quagliarello, su, l'ha negata fino a sei mesi fa Berlusconi. Io vorrei, 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 vorrei dirti... Però siamo onesti intellettualmente, no? Io sono assolutamente... Ce l'abbiamo tutti, le interviste, le dichiarazioni... Allora, se tu ti vedi, se tu ti vedi le dichiarazioni, le interviste, ti ricorderai anche che in campagna elettorale il centro-sinistra rimproverava Berlusconi di non essere disponibile nei confronti degli italiani, di non essere generoso, perché non faceva promesse e perché immaginava un futuro. Poi, che Berlusconi ritenga che ci sia un elemento della crisi di carattere psicologico... Non vi mettere a discutere proprio adesso, dobbiamo chiudere. Grazie a tutti per essere intervenuti, lasciamo la linea Coffee Break e buona giornata a tutti.